salve a tutti ragazzi bentornati su Farming Simulator 19 oggi siamo sulla new facebook vi ricordo sempre iscrivervi al canale ragazzi supportatemi iscrivetevi se non siete già iscritti e lasciate sempre un bel pollicione all'insù allora ragazzi l'ultimo gameplay abbiamo imballato e raccolto le le balle raga l'ho raccolto tutte quante qua stiamo ancora sto finito di vendere l'insilato ragazzi i primi soldi dell'insilato sono arrivati ragazzi come potete vedere adesso ho 116 mila euro eccole qua le balle che sono riuscito a fare in più un carico l'ho lasciato alla stalle delle pecore quindi oggi ragazzi abbiamo tante cose da fare e adesso devo scegliere che cosa fare perché abbiamo questo qua il tabacco ecco che il tabacco qua il tabacco è pronto per la raccolta poi ci abbiamo poi vediamo un po' un attimino qua c'è il frumento che è pronto per la raccolta pure questo ragazzi in più ci abbiamo anche l'avena andiamo un attimino vi faccio vedere ci abbiamo l'avena qui al campo 28 e 29 pronta per la raccolta raga e in più ci abbiamo il mais al campo 21 ragazzi tutti pronti per la raccolta raga mamma mia tutto assieme allora dobbiamo fare una scelta quindi io penso di iniziare non lo so forse dall'avena perché i cavalli hanno bisogno di avena gli altri animali più o meno stanno bene però anche il mais raga i suini vogliono il mais e i cavalli l'avena quindi direi iniziamo dall'avena raga intanto facciamo l'uno e l'altro iniziamo e in più raga oggi ci andremo a comprare le mucchette che è ora di comprare le mucchette adesso il fieno ce l'abbiamo poi la prossima volta che faccio l'erba raga naturalmente farò insilato così possiamo fare la razione mista però adesso ci accontentiamo solo del fieno ragazzi ci diamo solo il fieno quindi ora ci andiamo prima a raccogliere la venozza la venozza e poi successivamente ragazzi ci andiamo a a raccogliere il grano a trebbiare no il grano il mais quello non lo tringiamo raga lo solo ora lo trebbiamo perché lo daremo servirà per i maiali ok ok perfetto allora andiamo qua ok andiamo quando questi sono due gambetti piccoli raga facciamo la paglia che è sempre utile sono due gambetti piccoli non ci vorrà non ci mettiamo tanto tempo poi avviamo un attimo il lavoro in modo tale che poi ci mettiamo l'operaio raga così noi andiamo a comprare le mucche ho preso l'albero ok dai qua l'erba penso è già da rifalciare se non sbaglio fammi vedere si pronta per la raccolta questa è pronta già per pronta già per rifarciarla e l'ho lasciato non ci ho dimenticato una balla ragazzi là sotto ok questa la portiamo tutto al silos la scaliamo tutto nel silos che abbiamo i cavalli la strada e i cavalli e da vendere e da vendere raga abbiamo solo il terreno quello dove sta il tabacco quello ce lo vendiamo tutto quanto e e il frumento il frumento il frumento dovete quanto ce n'ho se no lo vendiamo pure quello ci vendiamo anche se quello l'avevo messo per le galline se non sbaglio le galline che poi dobbiamo controllare un attimino insomma se stanno facendo le uova raga perché ho messo tutte queste stalle di galline questi allevamenti e vedete a che punto stanno non mi sono andato più a facciarle alle stalle che ho di là delle galline poi ci facciamo un salto tanto qua ci possiamo adesso mettere pure l'operaio un attimino perché noi adesso andiamo con questo qua si col zame fortis ci andiamo a lo mandiamo al mercante di bestiame e ci andiamo a comprare queste mucchette vediamo un po' un attimino mamma mia sti maiali quanto cagano guardate qua la cacca che già ci ristala allora qua queste gallinelle qua allora qua ci abbiamo ci abbiamo 1300 litri di uova queste le buttiamo dentro così ok via via e via a posto qua almeno abbiamo sistemato allora come questo lo mandiamo al mercante abbiamo detto quindi tu te ne vai al mercante e torni con le mucche mi raccomando allora andiamo un po' un attimino il mercante di bestiame ok vai e lui ha finito qua quindi questo lo mandiamo al biocas lo andiamo a scaricare ma dobbiamo vendere un po' di maiali ce ne abbiamo più di 100 ho visto prima se no se no sbaglio vale più di 100 100 maialozzi ci abbiamo quindi sarà pure ora di venderne qualcuno allora questo lo mandiamo al biocas biocas vai ok e noi cosa che facciamo andiamo un po' che trattore c'ho libero questo vogliamo prendere questo vabbè dai allora visto che ce l'abbiamo in rimorchio si andiamoci a comprare un rimorchio invece ce n'ho uno libero usiamo questo naturalmente ok e lo portiamo qua al a dove stiamo a trebbi a lavina ok la distra raggiunge mercato di bestiame ok perfetto eccolo qua va lui vai allora questa pure fa anche 612 18 facciamo tre viaggetti dai ok questo qua che sta a fa sta imbottigliato nel traffico perfetto e e niente dai andiamoci a trebbiare finiamo noi qua quando questo non sta a fa sta a fa proprio un casino già lo sto a vedere ecco qua la nostra bella trebbia la verda sarà pure quasi ora pure di cambiare raga anche se non penso che ce la faremo visto che saranno una delle ultime puntate di questa serie quindi ormai stiamo agli sgoccioli mancano giusto due settimane raga anche meno perché quando uscirà il video che danno meno di due settimane quindi andiamo tutte insomma andremo a chiudere tutte ste serie e inizieremo il nuovo la nuova serie su farming 22 ragazzi già se ci riuscirò a farlo uscire il primo video lunedì 23 vediamo un attimino che riesca a fare perché insomma possiamo scaricarlo dalla mezzanotte del 22 quindi tempo di scaricarlo e vabbè non ci vorrà niente a scaricarlo ormai con la fibra non ci vuole niente però un attimino ci devo dare un'occhiata insomma prima io posso aprire e fare il video voglio un attimino capire come le nuove funzionalità che ci stanno insomma studiarlo un po' prima di fare video quindi non so se riuscirò il primo giorno utile a farci un video comunque vedremo ragazzi devo capire bene insomma le nuove nuove funzionalità che ha quindi nuove lavorazioni devo capire bene pure tutte queste fatte delle produzioni lo devo studiare un po' ragazzi qui voglio essere pronto e preparato allora questo lo scarichiamo a posto è facciamo 2 5 luong li Ok, abbiamo quasi fatto il pieno. Ecco, siamo a posto. Andiamo a scaricare e ci mettiamo l'operaio. E noi andiamo un attimino a vedere. Andiamo a scaricare le mucche. Allora, aspetta però, devi scaricare prima. Allora, ok, arrivate. Arrivi, Gesù arrivi. Allora, dove si scaricano qua? Forse qui, sicuramente. Ok, dai. Eccolo qua le prime mucchette. In questo modo rimandiamo a caricare. Facciamo un nuovo viaggio. Vai al mercante. Perfetto. Intanto scarichiamo per questo. Ok. Scarichiamo. E ora, sicuramente, ci avremo i liquami, il digestato. No, i liquami, il digestato. Che poi useremo, raga, per fertilizzare. Lo daremo ai nostri campi. Quindi, prima di riseminare un campo, ragazzi, diamo una bella, usiamo il digestato. Penso, adesso qua il biocassi ce ne avremo un bel po'. E in più ci avremo anche i liquami, quelli delle stalle, dei maiali, sicuramente ce l'ho, beh, delle mucche ancora no, però i maiali sicuramente qualcosa ci avremo. Quindi, scaricati, ce ne avremo anche lui. Lo rimandiamo in farm, anche lui. Vai. 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 Ok. Oh. Questo? Ma, mamma, questo coraggio mi sta a fare un pazzia, eh. Cioè, è talmente semplice, no? Perché non va? Perché? Bene. Well. Allora, vai. ci riesci a lavorare lo sto campo? ci riesci? allora noi nel frattempo possiamo già dare pure la paglia alle mucche ricarichiamo ricarichiamo prende nere anche prendiamo le nere stavolta ok conferma ok allora prendiamo questo il nostro New Holland ci andiamo ad attaccare carica paglia ragazzi che vediamo così già da paglia alle mucchette adesso andiamo a caricare il tende sul campo raga quando quello è da caricare così raga qua questa serie animali diciamo l'abbiamo fatti tutti sicuramente raga sta la serie quindi in settimana penso di chiuderla così mi concentro un po' tutto il mio tempo più o meno sulla Champs de France e le ultime puntate anche su della Valle View quindi questo sarà non dico l'ultimo ma forse uno degli ultimi per un ultimo insomma penso in un altro video ce lo faremo sicuro ce lo voglio fare sì volevo concentrarmi un po' più sulla serie quella di Champs de France che visto che ho un bel po' di cose insomma ancora da farvi vedere quindi mi voglio concentrare un po' più su quella tiro giro tondo casca il mondo ok dai ok raga ora ci do la paia ci do un po' d'acqua e chiudiamo così l'episodio e io off camera finisco di comprare le mucche raga finisco di cosa le mucche e finisco di trebbia la vina insomma mi porto un po' avanti così la prossima volta faremo il mais e che altro ma dove c'è cosa questo andiamo a aprire qua ok questo lascio qua tanto poi puoi mettere altre mucche servire l'altra paglia ora ci do un po' d'acqua e poi ci do il filo l'acqua ce l'ho qua vuota naturalmente riempiamo qua la nostra pompetta qua ok perfetto l'acqua quanto si dà l'acqua acqua acqua alle papere acqua alle papere qua si ricarica il latte forse qui sicuramente sì a posto raga spero vi sia piaciuto il gameplay raccomando sempre iscrivetevi al canale lasciate sempre un bel pollicione all'insù e vi ringrazio come al solito tutti quanti e ci vediamo alla prossima volta ciao a tutti ciao